Il progetto è una lampana pensata per gli studenti, rincata verso il basso aiuta a migliorare la concentrazione perché la luce diventa bianca, se si gira verso l'alto invece la luce diventa arancione, quindi è il momento di riposarci, fare, guardare un film e rilassarci. Ho pensato di fare un kit di strumenti elettronici intelligenti, bestboard per ciechi. È un'installazione interattiva audiovisiva, tutto è partito dallo studio che ha fatto Alan Turing sulla morfogenesi e la creazione delle forme in natura. Emergendo la mano nell'acqua si va ad innescare la generazione di un pattern sia visivo che sonoro. Questo qua è Password Wallet. Questo gadget permette di salvare centinaia di password in un singolo posto e portarle ovunque si vada potendo accedere a diversi siti con un semplice click. Il mio progetto è un anello wearable. L'idea è quella di creare una linea necessaria che si basa sull'idea della cromoterapia. Io sono inventato questa piattaforma di gaming su cui ho caricato dei vecchi giochi. L'idea di base è quella di usare questa piattaforma per l'insegnamento del coding e della programmazione. La cosa principale che abbiamo deciso è che doveva essere un'esperienza divertente. Più veloce che va con la bici, più cambiano le cose. La musica diventa più veloce, le luci diventano più veloci. La luce principale è del blu, va a fina rossa. E ora che li cora. Vai, decora con quello che li cora del centro.